Si rinnova a Chieti l'appuntamento con un torneo di tennis in costante crescita. Dall'11 al 18 giugno, sui campi del circolo tennis di Piana Vincolato, ecco la decima edizione della Lazzaroni Cup, torneo future di tennis ITF World Tour, con un monte premi di 15.000 dollari. Testa di serie numero uno sarà l'ucraino Ovicerenko, numero 384 del ranking mondiale, mentre tra gli italiani spiccano le presenze di Luca Potenza e Marco Serafini. Scalpitano anche i tendisti abruzzesi, in primis l'aquilano Andrea Picchione, che sarà presente nella tabellone principale, mentre giocherà le qualificazioni l'avezzanese Gianluca Di Nicola. Fuori causa per una tendinita il pescaresi Andrea De Federico. Gareggerà invece il molisano Federico Iannacone. Sulla manifestazione sentiamo l'assessore allo sport del comune di Chieti, Manuel Pantalone. L'Ala Zeroni Cup, per la quale ringraziamo la famiglia Iannamico, sponsor dell'evento, e ringraziamo il gestore del nostro impianto di Piana Vincolato, il Circolo Tennis, cioè il presidente del Tennis Chieti, Ennio Marianetti, perché quest'anno cresce ancora di più. Una grande manifestazione di tennis di carattere internazionale, che vedrà tanti campioni del tennis protagonisti, e che soprattutto siamo convinti possa portare tanto movimento in città e ricadute positive sia sull'indotto sportivo che su quello commerciale e ricettivo. Cinzia Turli, responsabile risorse umane della Lazzaroni, spiega l'impronta che si intende dare al torneo partendo da uno sguardo verso il futuro. Puntiamo ai 25.000 per l'anno prossimo, dietro richiesta direttamente dalla Federazione Internazionale Tennis, quindi noi ci siamo e ci abbiamo creduto per tutti questi anni, continuiamo a crederci, in modo particolare quest'anno la filosofia è strettamente legata ad un aspetto di carattere educativo, infatti abbiamo un grande scambio all'interno di questi internazionali con le università telematiche, proprio per dare la possibilità alle nuove generazioni di poter combinare lo studio con l'attività sportiva. E quindi puntiamo veramente alla realizzazione di un torneo internazionale che abbia anche il sapore realmente umano e che quindi possa promuovere un vero lifelong learning per tutti.